Eccoci qua di nuovo in diretta come sempre 17.49 minuti primi, ci occupiamo dello star bene e soprattutto di come prevenire, come prevenire, sia questo verbo che viene tanto utilizzato che mai come in questo periodo naturalmente ci può aiutare, un periodo per ognuno della vita in ogni momento, a capire noi stessi e soprattutto prevenire piccoli grandi problemi che possono così modificare il nostro stato di salute. Oggi perché non nel tempo, più ci si porta avanti e meglio ci arriva naturalmente all'appuntamento. E allora con Politerapica Terapia della Salute ogni mese vi raccontiamo di come Politerapica, questa struttura moderna dinamica che mette a disposizione grandi specialisti in tempo ristretto con condizioni economiche valide o sintetizzato il tutto, ogni mese propone naturalmente qualche cosa di interessante per quanto riguarda la nostra salute. Pasquale Lentini è un po' il nostro punto di riferimento della struttura e è diventato anche per tutti noi un punto di riferimento. Dottore, questo mese che cosa devo controllarmi? Il mese scorso mi sono occupato di angiologia per cui ho fatto un bel Doppler, tutto a posto. Questo mese che cosa devo controllare? Beh, è bello anche questo out. No, è vero, voglio dire che cosa devo fare. Ma no, noi quest'anno lo stiamo dedicando ad una modalità di informazione e prevenzione un pochino più aggressiva di quella che peraltro portiamo avanti già da otto anni. Noi riteniamo che la salute sia una cosa che vada innanzitutto salvaguardata in modo preventivo e quindi ci piace curare, siamo bravissimi nella cura, facciamo delle cose stupende, ma pensiamo che l'obbligo di un'azienda sia anche quello di pensare alla responsabilità sociale. E un'azienda che si occupa di salute come la nostra non può non pensare anche a promuovere comportamenti sani e orientati al benessere, come si dice. E questa cosa non possiamo che farla attraverso attività di informazione, formazione e divulgazione. Come le stiamo facendo quest'anno? Le stiamo facendo dedicando ogni mese ad un tema specifico e lo facciamo anche, diciamolo eh, signor Villa, lo facciamo anche con la straordinaria collaborazione del vostro gruppo che ci aiuta moltissimo in questo tipo di attività. Il mese di maggio, dopo aver dedicato febbraio all'urologia, alla ginecologia, alla portologia, marzo al problema della tiroide, aprile alle vene e alle arterie, maggio siamo nel pieno della primavera, proprio in mezzo, lo dedichiamo alla primavera. E quando diciamo primavera lo dedichiamo a quei problemi che sono tipici della primavera. esplodono le allergie, esplodono quindi tutti i problemi che stanno intorno alle allergie e altra cosa comincia ad arrivare il sole, cominciamo a scoprirci e quindi comincia la nostra pelle ad affrontare un agente esterno molto forte come il sole. Quindi noi in maggio quest'anno, quest'oggi, lo tratteremo pensato alla pelle da una parte ma all'allergia alla rinite e all'asma dall'altra. Adesso veda lei quali sono i suoi problemi, dove si vuole far vedere. No, le devo riconoscere una cosa, voglio dire, perché noi facciamo comunicazione e voi facciamo questa struttura dinamica che aggrega in tempo rapido, perché poi un'altra cosa è quella, vorrei farmi un controllo ma devo aspettare cosa devo fare, voi avete semplificato anche questo aspetto. Poi è diventato uno scadenziario, credo, per noi e per chi lo comunichiamo, perché in effetti qualcuno non ha un problema non si può. E se uno mi dice questo mese mi controllo questa cosa, questo mese mi controllo quest'altra cosa. Sì, o va detto che poi durante il mese ci occupiamo pure del resto, eh. Sì, voglio dire. Però come promemoria per noi così utenti di tutti i giorni, avere un argomento da trattare è certamente un aspetto positivo. Proprio di pneumologia ci occupiamo con il dottor Giuseppe Ferrara. Allora abbiamo pneumologia, aspetti legati all'allergia e a cos'altro. Sono strettamente collegate la pneumologia con l'allergia tramite la patologia chiamata asma e che è legata, anche essa, mi faccio riferimento a quanto diceva Pasquale Intini, sono collegate tramite l'allergia. E l'allergia che cos'è? È una risposta anomala dell'organismo verso sostanze che di solito sono innocue per la maggior parte delle persone. In alcuni soggetti si sviluppa una ipersensibilità che a seconda di dove l'organismo viene interessato, che potrebbe essere interessato negli occhi, nel naso, nei polmoni, nella pelle, sviluppa una patologia. Avremo così la rinita allergica, l'asma, l'orticaria e via dicendo. L'apneumologia in questo entra nell'individuare quelle difficoltà che sorgono nella respirazione di determinati soggetti che ancora non hanno capito che si sta sviluppando una patologia allergica e si rivolgono allo specialista perché accusano dell'affanno nel camminare, nel muoversi, a volte anche a riposo e in determinati momenti della stagione. Per cui l'opneumologo gli sottopone una spirometria che è l'esame e base per individuare il deficit respiratorio. La spirometria che cosa consiste? Consiste nel soffiare in un apparecchio, seguendo le istruzioni dello specialista. Una volta terminato l'esame si misurano i valori che ne scaturiscono, per cui paragonandoli con i valori standard di una popolazione base si può dire se c'è un deficit ventilatorio di tipo ostruttivo e quindi prendere gli adeguati provvedimenti terapeutici o indagare ulteriormente. In effetti questa settimana, questo mese Politerapica, Terapia della Salute, offre proprio la valutazione della capacità polmonare e l'esame gratuito con spirometria. Sì, questa è una delle tre cose che facciamo questo mese. Noi domenica 10, a chiunque lo desideri, chiediamo solo la cortesia di prenotarsi perché dobbiamo gestirlo al meglio. Offriamo la possibilità di una valutazione in termini di screening, ma una valutazione seria comunque, di quelli che possono essere problemi di tipo allergico, una valutazione, e questo è il secondo, sempre in termini di screening, ma comunque in modo molto serio, di quella che è la condizione della pelle, con particolare riferimento ai nei, e l'abbiamo chiamato volutamente screening per la diagnosi percoce del melanoma. Questo è un tema sul quale varrebbe la pena spendere due parole, magari dopo lo facciamo. E la terza cosa, questa domenica 17, sarà dedicata esclusivamente col dottor Ferrara al tema della capacità ventilatoria, quindi la capacità di respirazione misurata con la spirometria. È un'attività che svolgiamo con due dei nostri specialisti, una è il dottor Ferrara che è il pneumologo, l'altro è il dottor Noto che è dermatologo. Medicina Vicina oggi ha una ventina di specialisti e quindi questa cosa ci permette di allargare notevolmente lo spettro delle attività di comunicazione, di informazione, di divulgazione sui temi della salute che fino all'anno scorso concentravamo solo su alcuni aspetti e che quest'anno abbiamo deciso di estendere a molti di più. Ecco, magari ancora un riferimento con il dottor Ferrara. Allora, lei ha parlato di spirometria a questo esame che dà un po' la volumetria dei nostri polmoni. Poi cos'altro può essere interessante sapere del nostro operatore respiratore? Io ho parlato dell'asma, ma c'è anche tutta un'altra gran fetta di patologie respiratorie che è la broncopatia cronico-ostruttiva, è la patologia che è favorita dall'uso della sigaretta e si sviluppa col passare del tempo nella maggior parte dei fumatori. E la spirometria in questo caso è molto importante perché misurando i parametri respiratori, non quando si è già sviluppata la patologia, ma preventivamente, e qui mi faccio un appello anche ai medici di base di sottoporre i propri assistiti a controlli spirometrici in determinati soggetti a rischio, quale il fumatore. Noi potremmo prevenire consigliando adeguati provvedimenti come l'estensione del fumo, la diminuzione di esposizione agli allergeni, agli inquinanti, potremmo aiutare la persona a non sviluppare la malattia futura, ma o quantomeno ridurne i danni e i deficit di tipo respiratorio. Quindi con questo screening si possono avere indicazioni sul nostro apparato respiratorio e quindi capire. Fare un punto della situazione e poi decidere cosa fare. Se perseverare sulla strada ci porterà inevitabilmente a patologie future o riuscire a frenare per tempo e cambiare strada e quindi preservare la salute. O scoprire anche di star bene. Senta, poi arriva il sole e adesso chiudiamo con questa cosa solare. Arrivano in Sardegna, qualcuno si muoverà a 25, 28, 28 gradi. Il sole, ci esponiamo al sole e la pelle? Ci esponiamo al sole e scopriamo che la pelle non è soltanto una cosa che sta lì, ma è un organo di un'importanza enorme. Teniamo presente che la pelle è considerato l'organo più grande del corpo umano. Misura due metri quadri, non è uno scherzo, la pelle di un uomo adulto. E scopriamo che la pelle ha delle funzioni essenziali. È un organo molto complesso, fatto di tutta una serie di strati all'interno dei quali ci stanno diverse parti. Pensiamo alle ghiandole sebacee, pensiamo alle ghiandole pilifere, pensiamo allo strato necessario per permettere la traspirazione dall'interno all'esterno a proteggere dal calore. E però poi scopriamo che la pelle può ammalarsi. Può ammalarsi e può ammalarsi anche in modo estremamente serio. I nei, che sono un problema di tipo benigno, possono diventare una cosa molto più seria, possono diventare il melanoma e qui il discorso cambia. Si apre una discussione enorme su quanto il sole favorisca o non favorisca la malattia della pelle. Si apre poi un'altrettanto enorme discussione su quali potrebbero essere le modalità migliori per proteggerla. Comunque, quel che è certo è che quando parliamo di melanoma parliamo di un tumore che è estremamente complesso, estremamente brutto, ma che se diagnosticato per tempo può essere trattato con buonissime possibilità di successo. Per cui quando parliamo di melanoma parliamo di un problema che deve essere assolutamente affrontato con un approccio di diagnosi precoce. Da qui lo screening può essere un momento estremamente importante. Come lo screening è un momento importante per i problemi di tipo respiratorio, perché ci può impedire di peggiorare e di avere patologie molto più gravi, sulla pelle è una modalità estremamente efficace. Ma, d'altro canto, mi scusi un attimo, noi ci poniamo il problema di sottoporre l'auto a tagliandi periodici. Perché ci obbligano, se no non ci fanno circolare. Bisognerebbe farlo tagliando anche per la circolazione degli esseri umani. Ho capito, però il fatto di sottoporre a tagliando i polmoni o sottoporre a tagliando, che non vuol dire adesso da domani andare ad affollare il sistema sanitario nazionale o andare ad affollare, ma vuol dire provare a riappropriarci un attimo del nostro corpo, della nostra salute e a responsabilizzarci, non sostituendoci al medico, ma lavorando in modo sinergico col medico anche con un atteggiamento propositivo. Anche per scoprire, oltretutto, di star bene. E ne vado a chiudere, quindi uno va a casa ancora più serena. Ma assolutamente. Cioè qui non si vuole assolutamente far terrorismo. Facciamo dei tagliandi proprio per essere certi che stiamo bene e che non abbiamo problemi. Qui è la prevenzione. Ok. È la prevenzione, giusto come dice il dottor Ferraro. E politerapica, terapia della salute, vi aiuta in questo campo. Siete asseriate in via nazionale, un centro moderno, dinamico, basta telefonare, prenotare e questo mese avete visto quante altre possibilità. Ricordiamo le due date degli screening. Le due date degli screening sono il 10 maggio, lo screening allergologico e lo screening dermatologico. Il 17 maggio è lo screening della capacità polmonare. Chiediamo la cortesia di chiamare per prenotare e il numero è 035 29 8468. E il sito internet politerapica, terapia della salute. Trovate tutte le informazioni anche più dettagliate. Grazie, buon lavoro. Noi tra poco ci occupiamo del meteo che magari ci aiuta anche a respirare meglio. Se piove, chissà mai. A tra poco.